Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Con la ricognizione cadaverica disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Teramo, Davide Rosati, il corpo di Stefan Banut, il papà di 22 anni di controguerra, tragicamente scomparso ieri intorno alle 6.30 nello schianto con un camion lungo la fondovalle del Salinello nel territorio di Tortoreto, sarà riconsegnato alla famiglia. Il magistrato, stando alla ricostruzione dell'incidente da parte della Polstrada di Pineto, non ha ritenuto necessario disporre l'esame autoptico. Al momento, inoltre, non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La dinamica, infatti, sembra essere chiara. Nell'affrontare il curvone, l'appunto di Stefan Banut avrebbe invaso la corsia opposta lungo la quale procedeva in direzione Monti il mezzo pesante. Dunque, una tragica fatalità su cui, però, si attendono ulteriori esami approfonditi sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni di luogo. Ieri, infatti, la strada era bagnata ed in quel tratto l'asfalto è particolarmente viscido. Inoltre, la curva maledetta, già teatro di altri incidenti anche mortali, è particolarmente insidiosa da affrontare. Stefan Banut è la prima vittima dell'anno e la ventiquattresima dal 2022 in provincia di Teramo. Il giovane romeno, operaio edile, lascia un figlioletto di pochi mesi alla moglie. Controguerra si stringe intorno alla famiglia. Stefan era arrivato in Val Vibrata dopo gli studi in Romania circa dieci anni fa, i suoi parenti diversi anni prima. La famiglia si è ben ambientata ed inserita nel tessuto sociale ed è stimata. I funerali del giovane non sono stati ancora fissati.